L'Associazione Commercianti e Artigiani del Centro Storico di Sernia chiede la valorizzazione della città da realizzarsi attraverso l'acquisizione di un potenziale parco, un punto informativo per il turismo e la risoluzione di Palazzo Iadoppi. Andiamo a vedere. Perché tutti e tre insieme in questo posto? Questa è l'ultima iniziativa dell'Associazione Commercianti e Artigiani del Centro Storico. Proponiamo che questo spazio, che è uno spazio verde e libero nel cuore della città, venga tolto dal degrado in cui è stato abbandonato da 77 anni, cioè da quando c'è stato il bombardamento, in modo da creare un parco in cui possano soffrire i bambini, i giovani, i ragazzi e gli anziani del quartiere. Insieme a questa proposta c'è naturalmente una raccolta di firme e questa è una petizione popolare che noi proponiamo non soltanto all'amministrazione comunale, al sindaco, ma a tutti i consiglieri comunali. Anche perché vorremmo coinvolgere il Consiglio Comunale nel suo complesso, che oltre per la competenza, diciamo, per un discorso pubblico, nel senso che dall'amministrazione comunale, non abbiamo avuto in questi anni alcuna risposta. Quindi chiediamo che i consiglieri comunali tutti si interessino di questa questione, insieme a riprendere il discorso di Palazzo Iadoppi, che è bloccato ormai da anni. C'è un altro problema di cui vorrei parlare, è quello del punto di informazione turistica. Ho saputo perché un amico, quello che ha appena lasciato il gabbiotto dove c'erano i giornali, che si era detto disponibile di lasciare tale sito al comune in modo gratuito, ma siccome i problemi burocratici sono stati talmente tanti, lo stesso si è scocciato. A questo punto ha detto di voler lasciare questo sito, insomma l'ha dato ad una persona che lavora nei pressi della sua attività e gliel'ha dato gratuitamente. Questa sarebbe stata una grossa opportunità perché qua fondamentalmente manca un sito turistico e l'abbiamo visto soprattutto quest'anno dove l'affluenza turistica è stata grandissima e ci venivano a chiedere le cartine della città di Sernia. Qualcuna noi l'avevamo, però è datata a 2003. Quindi pregherei l'amministrazione comunale, in questo senso, di darsi una mossa veramente in terbi brevi. Una problematica che ci siamo posti riguarda il mercato. Il mercato che sappiamo qui giù al Borgo Antico è per noi fondamentale. Purtroppo c'è stato qualche piccolo screzio tra qualche nostro collega e l'organizzazione del mercato perché alcune bangarelle, alcuni camion magari osservano la visuale. È stato chiesto solo di spostare di qualche metro e dalle persone addette responsabili è stato risposto in maniera negativa. Se siete le cose del tipo, vabbè queste sono problematiche, non sappiamo come fare tanto poi lo sposteremo. Questa cosa noi non la prendiamo proprio in considerazione perché il mercato nasce e deve muovere il Borgo Antico. Quindi per noi è una cosa che proprio non esiste in una maniera più assoluta.